Noi siamo autonomi, orgogliosamente autonomi, diversi e differenti dal Partito Democratico con cui riconosciamo di aver collaborato lealmente in questi anni per il bene del Paese. Crediamo che oggi ci sia bisogno per l'Italia di una forza che si ispira per semplificare al Partito Popolare Europeo in Italia, lo dimostrano anche le elezioni in Germania, moderati e popolari e che ci sia bisogno con orgoglio di lavorare e costruire questa forza. Su questo siamo disponibili, abbiamo dato il nostro contributo e continueremo a dare il nostro contributo. Gli interlocutori principali sono quelli che sono all'interno del Partito Popolare Europeo e ovviamente, come abbiamo discusso in direzione nazionale, certamente Forza Italia, così come tutti gli amici centristi che con noi in questi anni hanno fatto scelte dolorose ma che si riconoscono in questo progetto, in questa esigenza di proposta politica per il Paese, abbiamo ribadito che legittimamente ogni altra forza politica sceglie una strada ma quella strada non è come in Europa la nostra strada. Quindi la scelta lepenista di destra della Lega di Salvini o di Fratelli d'Italia o quella populista del Movimento 5 Stelle non sono ovviamente il terreno su cui noi possiamo lavorare e confrontarci.